Non sento male nessuno Quindi salterà la prima eliminazione Pertanto Non avremo più la campana A meno 24 La prima eliminazione a meno 23 Ma avremo la campana a meno 22 Ed una prima eliminazione a meno 21 Perchè da di sotto E' un po' di gioco 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 E' una cameriera Che vuole il te? E' un po' di gioco Io sono gioco Il prossimo traguardo 27 giri alla conclusione Un altro giro vuoto Torneremo a dire Tra i difensabili A fine a meno 22 Per sentire sfida della campana Superato dal gruppo anche in meno 27 Sette Un po' compatto Intanto in questo Vediamo�' di gioco Quickers in tutto Durante le azioni Quindi questo primo tratto di percorso viene disputato dalle apreti con una relativa tranquillità in questa fase di sicurezza di controllo, hanno da poco superato il traguardo di 026, quindi manterranno 25 giri sul prossimo traguardo, 025 sul prossimo passaggio di tutte le apreti del massimo gara. Viene annunita la concorrente numero 415 Montiero Alice, annunzione per atleta 415 Montiero Alice. Speriore passaggio per le apreti. Vai mettetemi insieme, vai mettetemi insieme! Mancheranno 23 giri sul prossimo traguardo. Superato anche il passaggio di meno 23. Prossimo passaggio meno 22 sentiremo sfidare la campana ad annunciare che sul passaggio seguente a meno 21 ci sarà la prima eliminazione. Ecco la campana che arriva puntuale, a meno 21 prima eliminazione, attenzione a tre che ci stiamo avvicinando al primo traguardo che prevede eliminazione, meno 21. Quindi verrà eliminata l'ultima preta che transiterà proprio su quella al traguardo. Viene eliminata la concorrente 117, eliminata la concorrente 117 che si deve fermare perché è eliminata. Tra breve avremo la campana dei meno 20. La campana dei meno 20, arriva puntuale. Sono attenzione a tre che ci sono delle coltività che si deve fermare per un risultato. L'ultima retta che si deve fermare con la retta che si deve fermare per un risultato. Forza recuperare! Vai ragazze! Forza! Forza, Espenza! Forza, vai! L'immiginazione del meno 19. Vai ragazzi! Vai ragazzi! Per Torrente numero 819. Campana del meno 18 Vai Mocchi attaccati Vai Mocchi attaccati brava Perfetto va bene Dai giù di sali Stiamo nella proximità dell'eliminazione del meno 17 Attenzione 3 e eliminazione del meno 17 Viene eliminata la concorrente 847 In occhi angelica che si deve fermare Atleti che stanno avviando via la passaggio L'alto del meno 16 con la campana Dai diventateli insieme L'alto del meno 17 con la campana del meno 17 Un periore eliminazione Attenzione 3 e eliminazione in corso Viene eliminata la concorrente numero 89 L'alto del meno 17 con la campana del meno 17 Campana del meno 14 Eliminazione del meno 13 Eliminazione del meno 13 L'alto del meno 13 L'alto del meno 13 Viene eliminata la concorrente 826 826 Fiorato Giulia si deve fermare perché è eliminata La breve sfida della campana del meno 12 Si arriva regolarmente con la puntualità L'alto del meno 13 In sul prossimo preclato una ulteriore eliminazione Ehi, mi sto mettendo all'ombra Dai, mettetemi insieme Bravissima, bravissima, bravissima Bravissima, 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 bravissima Viene eliminata la concorrente numero 87 Fin Matilde Che si deve fermare perché è eliminata Questo sul traguardo degli 11 Alla conclusione L'atleta 87 Fin Matilde Si deve fermare perché è eliminata Sul traguardo del meno 11 Campana del meno 10 Che ha già oscillato Avremo una unesima Eliminazione a meno 9 Dalla conclusione Quindi il prossimo preclato L'ha eliminata un'altra atleta Eliminazione del meno 9 C'è un ritardo Nell'elettro 10 Ce ne sono sicuramente accorti Anche l'atlete Viene eliminata l'atleta numero 84 Sironi Francesca Che si deve fermare Perché è eliminata Questo ha meno 9 Dalla conclusione Posto che il termine Avremo lo squillo degli 8 Alla conclusione tra breve Non lo squillo della campana Ovviamente Tra breve Non appena Le atleti Transiteranno Sul prossimo traguardo Che è iniziato loro Sul conteggio Con il numero di 8 Termi Prossimo traguardo Avremo un'altra lineazione Quella di meno 7 Gruppo compatto Attenzione Per la prossima eliminazione Tra le meno 7 Abbiamo chi Verrà eliminato Su questo traguardo Viene eliminata Con corrente Nr. 60 Ismail Misupai Sara Che si deve fermare Perché è eliminata Prossimo traguardo Dei 7 giri Alla conclusione Saremo a meno 6 Dal termine Per queste atlete Da loro la campana Dei meno 6 Alla conclusione 9 atleti Ancora sul percorso Ne verranno eliminate Ancora 4 Da qua All'ultimo giro Portavolata La riservata solente A 5 concorrenti Che arrivano in gara Siamo alla eliminazione Del meno 5 Attenzione Atleti Eliminazione Del meno 5 Eliminazione Del 5 Alla conclusione Viene eliminata Viene eliminata La concorrente Nr. 88 Real giudizia Real giudizia Quindi 3 milioni Quindi 3 milioni Tutte in fila Adesso a seguire E poi risentiremo La campana Solo L'ultimo giudizia L'ultimo giudizia Viene eliminata Al concorrente 831 Che si deve fermare Perché è eliminata Crotta L'ultimo giudizia L'ultimo giudizia 2 al termine Un'altra eliminazione Che presso l'abitazione Si sussegue Non è in seguito All'arma Intanto c'è una punta Portata proprio L'atletta Marletti Alice Che sta allungando Su tutto il gruppo Alle sue spalle Vai Matti Vai Matti Vai Matti Vai Matti Viene eliminata La concorrente 824 Ricoli Agnese Che si deve fermare La concorrente 824 Ricoli Si deve fermare Ultimo giudizia Stile della campana E poi Il 95 Viene eliminata La concorrente 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 L'olimia Alessia L'italo Crescia Marletti E Marletti Alice Marletti Che aveva lanciato La concorrente Sta tagliando Per prima Il traguardo In questo momento E seguire Tutte le altre Aprete Che hanno disputato Questo è Tragecente E' Sennacolare La concorrente Ard нужna Errorale La concorrente La concorrente L'alermo La concorrente